Sono Fabio Bonelli, questa è un'opera di alcuni dei miei progetti. Musica da cucina, musica di cucina, è un concerto per i clarineti di cucina. I concerti possono essere molto diversi, promuovono concerti a rock venues e anche musei e festivali diversi. Matite è un progetto di ritmi, composto da un piano elettrico e 4 ritmi. L'azione del ritmo è amplificata e quindi il ritmo è davvero ritmato. Musica da sito, atmosfera completamente diversa, una band di rock indie con pappetti come bandmates. Un concerto di rock reale per gli adulti che vogliono tornare a loro figli per un tempo. Cosmophone è il primo dei tre progetti sui vinyls. Un concerto per la gitarra e le ricordi di etnomusicologia. I vinyls sono molto preciosi, quasi dai 70, come la collezione UNESCO. CBD è un progetto aperto di improvvisazione, con vinyls per le guardate, le ricordi e le ricordi. Il numero dei musicisti dipende sulle condizioni meteorologiche. D-Beth, un set di musica di musica classica con vinyls. D-Beth. 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 D-Beth.